Comandante, è stato un percorso lungo metabolizzare quanto ha fatto l'esercito italiano nella liberazione. È negli ultimi decenni che si è costruita anche nel paese una memoria, diciamo così, da Montelungo adesso appoggio Rusco. Beh sì, devo dire che, come dice lei, è un percorso lungo. Il sottosegretario Rossi nel suo intervento lo ha sottolineato, io credo, in modo chiarissimo. Devo dire anche grazie ad alcune cariche istituzionali, tutti ricorderanno i richiami del Presidente Ciampi, del Presidente Merito della Repubblica. È una cosa che ci ha fatto piacere. Noi, in qualche modo, noi paracadutisti ne siamo stati un po', se vuole, il simbolo di tutto questo, riuscendo a far coesistere nel modo migliore le due anime, quelle della Folgore e quelle della Nembo, che in qualche modo hanno rappresentato un po' la divisione, la lacerazione, forse dovremmo dire, dell'Italia dell'ora. Ecco, proprio ho avuto l'onore di parlare in questi anni con chi ha combattuto a El Alamein, ma anche con chi ha combattuto a Filottrano, adesso qui a Poggio Rusco. Sono questi i propri ponti gettati tra un'Italia e l'altra? Un ponte fatti di uomini, di cuore, di passione? Sì, ma anche di... guardi, sottoscrivo ogni parola che ha detto, ma aggiungerei anche di rispetto. Ieri, anzi venerdì, quando abbiamo fatto il lancio e a Cabruciata c'è stata una brevissima commemorazione, in realtà è stato reso onore anche a quei soldati tedeschi che anche loro hanno combattuto per un ideale. Voglio dire, forse siamo finalmente riusciti a fare quel passo in avanti e ad accettare e a integrarci in qualche modo, a fare dell'Italia un paese, il paese meraviglioso che è, un paese con tante radici e qualche diversità. Una cosa invece personale su di lei, quando lei ha saputo di essere e di essere ora Aquila 1, cosa prova? Beh, orgoglio sicuramente, grandissima soddisfazione personale e professionale e anche quel senso di dover sempre dimostrare di essere adeguato a questi 5.000 meravigliosi paracautisti, uomini e donne che meritano un vero comandante. Anche perché quando il paese ha bisogno voi siete sempre i primi a cui si chiede? Beh, a noi ci piace pensare che siamo sempre i primi a cui si chiede, di certo è che il nostro compito è quello di farci trovare pronti, per qualsiasi cosa il paese decida di chiederci, decida sia necessario per il paese stesso. La Folgore fa della sua prontezza una delle caratteristiche.